Stefana, un gol importante per te ma soprattutto per l'Inter, una vittoria che mancava qui al San Paolo da 11 anni, una vittoria che ridà Morali in un momento difficile. Sì, sicuramente che noi stiamo attraversando un momento bellissimo e ci voleva questa vittoria, soprattutto un campo così contro un avversario così forte. Secondo me oggi abbiamo nel primo tempo un po' fatto fatica, un po' di più anche, però nel secondo tempo abbiamo giocato come sappiamo noi e abbiamo segnato due gol. Tutta la squadra ha fatto molto bene, li faccio con i miei compagni. Quanto vale a livello personale questo gol? Quanto ti mancava? No, mi manca sempre il gol, io vorrei segnare tutte le partite, purtroppo per adesso non è possibile. Comunque io cerco sempre di dargli il massimo, a volte non è come voglio io, però ci sta, non facciamo le macchine. Ringraziamo Stefani Ovetic e Linea Pubblicità. Ringraziamo Stefani Ovetici